Il Veneo Il Veneo Il Veneo Il Veneo Il Veneo Il Veneo Io mi ricordo quando dal Veneto siamo immigrati a Torino, mio padre aveva trovato lavoro, non aveva trovato la casa, vivevamo in una baracca dentro il cantiere, ma non molto distante c'era la parrocchia e era una festa la domenica con quelle vecchie macchine, la microtecnica, con quelle pizze, andare a vedere il cinema che i viceparroci, che ricordo sempre con affetto, ci permettevano di vedere in quei pomeriggi. E avrei mai pensato quando ero così piccolo, che ero affascinato da quei film, da bambino, da ragazzino, che anni dopo sarei andato io con le macchine della microtecnica in giro per il paese, per l'Italia, a proiettare dei filmati come quello sulle carceri per i minorenni, quello sull'impegno sociale. Allora si faceva con queste pizze, no? E non avrei mai pensato che mi siano trovato andare in parrocchie, in associazioni, in movimenti, perché lo strumento, quello strumento, è lo strumento molto molto importante. Ma anche molto importante, lo dico ai ragazzi, lo dico loro quasi come un affidare, che dobbiamo diventare capaci poi di tradurre quell'immagine, quei contenuti, quei messaggi che non restino lì virtuali, appiccicati a quelle pellicole, a quelle immagini, ma che devono calarsi un po' dalla nostra vita, nei nostri vissuti. Perché a volte è facile commuoversi. Io sono uno che, quando ho visto certi film, mi sono commosso, ci ho pianto, perché vieni poi più preso dentro visceralmente, però poi devi anche chiederti che devi tradurre tutto questo nella tua responsabilità, nella concretezza, in un orizzonte di quotidianità, di normalità, non di eccezionalità. Allora i film, le immagini aiutano, aiutano moltissimo. Io ricordo certamente che ho l'affetto dei momenti cinematografici da ragazzo, d'adulto, che mi hanno posto domande, interrogativi, che mi hanno graffiato nella coscienza. Però poi ho sentito la responsabilità, che anche quei messaggi bisogna tradurli nella concretezza. Sennò restano cose appiccicate sui grandi schermi. Non ho titolo, sono il primo che deve riflettere, certamente. Io credo che tradurre quello che vediamo, e se nel vedere tocchiamo delle situazioni particolari, dove c'è la fragilità, la fatica, la sofferenza, la ricerca, non dimenticando anche le cose belle, la gioia, la felicità. E quando penso al cinema, penso all'arte, Sicuramente, lo dico sempre, che le due dimensioni, l'etica e l'estetica, il bello e il bene, si devono fondere, come nell'arte, e nell'arte ci sta il cinema, la musica, ma ci stanno anche i nostri ragazzi, che devono sentire che etica e estetica devono camminare bene e bello insieme. E l'unica cosa che mi sento di dire, che di fronte a certe situazioni, dobbiamo veramente imparare a metterci nei panni degli altri, perché se non ci mettiamo nei panni degli altri, tutto passa di corsa. E allora dobbiamo trasformare le nostre commozioni, in sentimenti, perché se restano solo gli momenti che ci prendono così, non diventano dei sentimenti che entrano più in profondità. Allora è questo, auguro, lo auguro. Io so che i ragazzi hanno delle sensibilità, oggi hanno anche più strumenti che permettano loro, se vogliono, di scendere in profondità. Grazie a tutti.